Musica Wittig & Living, salone della sposa e della casa, Ettena Fiere, dal 30 settembre al 2 ottobre. La famiglia e l'amore come chiave per la ricrescita demografica ed economica, questo uno dei presupposti alla base di Wittig & Living, salone della sposa e della casa, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre a Ettena Fiere. Con Wittig & Living apriamo con grande romanticismo ed eleganza la stagione fieristica, un evento attesissimo da tutte le persone che vogliono mettere su famiglia o in qualche modo devono organizzare un evento. Un evento che in realtà è già in corso, poiché già in Galleria del Trapolis è presente un nostro corner particolare con il contest Baciami. Mi arrivano centinaia di messaggi di gente che si bacia, si strabacia, che si lascia fotografare sui social. Questo è diventato meravigliosamente virale perché attorno al bacio costruiremo questo a grande tre giorni dell'amore. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre all'organizzatrice della fiera Barbara Mirabella, manager di Expo, anche il presidente di Aless Immobiliare, Salvatore Abate, l'europarlamentare Salvo Pogliese, il direttore di Ettena Polis, Alfio Mosca, il direttore commerciale della rivista specializzata Sposi Magazine, Roberto Termine e Aurelio Trubia, ideatore di Matrimoni di Sicilia.com. Sono orgogliosa della crescita esponenziale che ha avuto Weeding & Living, ha dichiarato Barbara Mirabella. Questo salone si inserisce in un periodo strategico presentando tutte le anteprime del 2017 e le collezioni più cool della prossima stagione. Sì, sono vero e orgogliosa come direttore di questo centro fieristico siciliano, unico credo in controtendenza rispetto a ciò che avviene probabilmente in altre regioni d'Italia, che quest'anno celebra oltre 20 fiere per tutto il 2016-2017. Weeding & Living manderà il proprio status di fiera dove informarsi, ispirarsi, guardare, cercare e trovare l'arredamento dei sogni secondo le proprie tasche. Scegliere tra un parterre selezionato di aziende top invece che nel mare magnum e dei fornitori, l'abito, gli accessori, il catering, la location, foto e video, bomboniere, lista e viaggi di nozze, intrattenimenti musicali, animazione, auto, fiori, scenografie, trucco a parrucco. Ovviamente wedding non è solo matrimonio, non è solo eventi di nozze ma è anche casa, quindi presenteremo la casa del 2017 e sembra strada dirlo, in realtà questo è un salone dove tradizione è fortemente collegata a innovazione. In Sicilia l'arte dell'ospitalità sia in casa che in un banchetto ritorna molto forte, dai temi del gattopardo ad oggi c'è una cura assoluta per i siciliani di metter su un gruppo di persone, di amici per un evento particolare come il matrimonio. E quindi tante sfilate, tanti incontri con gli esperti, gli esperti di Bonton, la cosa che mi piace ricordare è che poi venerdì in occasione dell'inaugurazione ci sarà una grande sorpresa con il più grande flash mob dell'amore, si stanno mobilitando tutta la Sicilia, tutti coloro che vorranno baciarsi all'impazzata davanti ai giornalisti e davanti a questo meraviglioso parterre che è un wedding. A dispetto della tendenza e dello scetticismo dominante questi eventi però fanno sempre successo? Assolutamente sì, fanno sempre successo anche e soprattutto per la professionalità, il dinamismo di Expoi, di Barbara Mirabella, con la cura dei dettagli organizzativi, con una promozione pubblicitaria significativa. Ogni anno qualsiasi edizione conquista nuovi risultati, nuovi obiettivi che puntualmente vengono previstati e puntualmente raggiunti. Quest'anno fra le altre cose si focalizza l'attenzione sul matrimonio made in Sicili, con la riscoperta delle ricette tradizionali, con la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti tipici siciliani. Quindi quest'anno credo che si raggiunga l'obiettivo ancora più importante per il quale deve essere certamente esternato un sincero applauso a Expo. Il 30 settembre alle ore 16 concorso ai modelli sposi, futuri sposi in passerella, che ritorna a grande richiesta, si vedranno 10 coppie di finalisti, calcare la passerella da futuri marito e moglie, indossando le ultimissime collezioni, sposo e sposa. Negli anni è cambiato il ruolo di un centro commerciale, in particolar modo di Ettenapolis, sempre più luogo di ritrovo, più che per gli acquisti. Diciamo che è stato sempre, almeno l'indirizzo e l'intenzione nostra di dire sempre che è lo slogan, Ettenapolis è la città del tempo ritrovato e quindi il centro si è sempre prestato a un'apertura totale al territorio e alla gente, offrendo tutta una serie di attività sinergiche per poter offrire il massimo dei servizi, il massimo anche dello svago e della serenità per tutti quanti. E la formula ha funzionato? La formula fino ad oggi ci dà numeri importanti e quindi un grande successo.